la vista è bella eh? eh? come? La vita è buona La vita è buona Questa è il Monte Bisbino, a che altezza è? A che altezza è il Monte Bisbino? Guarda il bar è chiuso Guardano il baratone Guardano il baratone Guarda il barattone Guarda il体香港 Vu Guarda il baratone Guarda il baratone La brigata Garibaldi può essere arrestati, avevamo 20 anni, siamo caduti su questo monte rispetto di difesa della nostra libertà, che ora anche tu e i codici, oggi Cesarino, Corriessa. Cesarino, 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 Corriessa. Cesarino, Cesarino, Corriessa. Cesarino, Cesarino, Corriessa. è una canonata questo è facile con i ricarbonati va bene, dai, vuoi provare nella neve ma sì ma vale la pena Ma è dura la neve, la neve è dura, vai lungo il muro che andiamo a vedere questa parte Un piccolo museo storico del Bisbino, ma ci sono i nemici del Bisbino Un piccolo museo storico del Bisbino Un po' di po' rami più belli che abbia mai visto, erano così ampio, guardate anche giù il lago e tutto Un piccolo museo storico del Bisbino 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 Un piccolo museo storico del Bisbad Un piccolo museo estrech Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.